La nostra provincia in questo momento vive un buon momento, contrariamente a quanto si possa pensare, noi abbiamo avuto una contrazione complessiva delle imprese del meno 0,6% che mi permetto di dire in un tessuto, in un momento di crisi così complesso è un lato assolutamente positivo se pensiamo a quante zone in questo momento chiudono i battenti. Però va anche detto che ci sono delle realtà che vanno emergendo e quello che va emergendo è soprattutto le imprese di qualità. Io faccio presente in questo momento sul turismo c'è un incremento, c'è un incremento sul tessuto della ricettura, il commercio che è fatto sempre da padrone perché rappresenta il 36% del tessuto produttivo catenese comunque è presente, non ha avuto quelle contrazioni che ci si aspettava e non potessero avvenire come è venuto nella restante parte del territorio europeo e anche nazionale. Quindi io non la vedo in maniera assolutamente negativa. È chiaro che i momenti di crisi hanno anche dei momenti assolutamente vantaggiosi, nel senso che in economia vale una regola. La crisi serve a depurare il mercato da tutto ciò che non è impresa sana.